È una mostra diffusa e questo perché appunto volevamo creare un dialogo fra il contenitore, che in questo caso è il Borgo di Gradara, e l'arte contemporanea. Quindi pertanto ci sono quattro sedi espositive, di cui una principale che è quella nel cuore di Gradara, che è a Casa del Guffo, dove ci sarà la maggior parte delle opere d'arte. Poi scendendo ci sono altre sedi dove in ogni sede ci saranno sculture, pittura e una cosa molto suggestiva sicuramente sarà l'esposizione dove all'interno della chiesa consacrata del conventino di Gradara c'è questo dialogo interessantissimo fra opere contemporanee, questa pala d'altare del 600 di scuola senese. E' questo perché è proprio il fulcro dell'elemento del progetto dove si vuole instaurare un dialogo continuo sul processo di storia e arte contemporanea. Attraendo artisti nazionali e internazionali contiamo di attrarre turismo anche straniero e cercare di dare più visibilità possibile al nostro borgo e far sviluppare il turismo. Una mostra d'arte contemporanea diffusa appunto a Gradara e per la quale sono previsti anche quattro incontri. Sì, sono quattro incontri specifici del settore, molto particolari e interessanti. Sono il 5 giugno, il 12 giugno, domenica 20 e sabato 26. I temi sono tutti diversi, si incontrano artisti, si incontrano critici, si incontrano professori universitari che daranno il loro contributo alla manifestazione. Per partecipare basta o visitare la pagina Instagram dell'associazione o mandando una mail a gradadercontemporanea.gmail.com O il numero di telefono è 333 48 44 077. Per i protocolli Covid abbiamo deciso di fare tutto su prenotazione, sia le visite guidate, che sono guidate, che gli incontri, i seminari che si svolgeranno all'interno del convento. Il primo inaugurale spiega un attimo quello che è stata l'ispirazione, cioè il connubio tra il classico e il contemporaneo. Portando l'esperienza dello studio che è stato fatto dal professor Milantonio sul conventino. Un gruppo di musicisti del conservatorio verranno a suonare quelle che erano le musiche create proprio in quegli istanti in cui era stato proprio fondato il convento. Da lì parte poi dopo la visita alle varie opere che poi si districchiano tra altre strutture all'interno del borgo. Grazie.